4 le ditte del comune, oltre 10 le squadre impiegate nella pulizia delle cisterne dei privati che ne hanno fatto richiesta a seguito dell'emergenza acqua dovuta all'inquinamento da gasolio. 430 le segnalazioni giunte, in un terzo di queste i lavori di pulizia sono già stati ultimati. L'assessore all'ambiente e manutenzione Filippo Cavallo fa sapere che le ditte chiamate dal comune sono attualmente 4 e a queste forse se ne aggiungerà una quinta. Sono le imprese Augurale, Rion, Guardabasso e Carfì. Una precisazione necessaria, dice Cavallo, perché da qualche giorno pare ci siano altre ditte che si spacciano estera del comune, invece sono di privati. Piano piano la città sta tornando alla normalità. Intanto, ieri pomeriggio a Palazzo Iacono, l'assessore comunale Filippo Cavallo ha incontrato il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Scarso, per fare il punto della situazione sull'emergenza idrica e valutare il danno economico prodotto dal gasolio nella condotta idrica cittadina. Un incontro istituzionale dunque è servito a fare lo stato dell'arte. La provincia del canto suo sta valutando e di verificare la disponibilità economica, mentre il comune sta provvedendo alla ripristina della condotta. Allo stato attuale i danni ammontano ad oltre 180.000 euro.